E urca per urca a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ci ritroviamo qui per andare a completare la missioncella a raccogli piastrine Kogge, in realtà è uscita ieri sta missione ma insomma mi so perso, non so neanche io che Cristo ho fatto In ogni caso la piastrina la troveremo esattamente qui praticamente come potete vedere Ovviamente saranno soltanto tre da trovare, io ovviamente vi mostro tutte le location In modo che voi potete scegliere poi dove andare chiaramente In ogni caso ecco qui la piastrina Kogge, molto molto easy Dunque ragazzi ci vediamo direttamente alla seconda che in questo caso si trova esattamente vicino al santuario Dunque facciamo praticamente sempre in senso orario Dunque andiamo al santuario e poi ritorniamo giù dal ghiaccio e poi ritorniamo sempre al daily battle eccetera 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 Chiaramente ragazzi come potete vedere vi consiglio di andare o qui dove sono andato io adesso e al santuario Oppure qui a condotti e qua oppure dei libaguale qua che sono praticamente attaccati In questo caso io vabbè starto da qua e ci vediamo appunto tra un secondo con la seconda location E dunque eccoci qui con la seconda location molto molto bislaca qui vicino al santuario alla sinistra precisamente del santuario Vediamo dove si trova questa piastrinella di fianco all'albero presumo Eccola lì dovrebbe essere questa Dunque eccola tutto il suo splendore raccoglie persone ma Kogge, Cogge insomma Let's go! Due su tre come potete vedere ora ovviamente non continuerò a prenderle altrimenti poi non vedremo le altre location Dunque ci vediamo direttamente a Bobine Brulle per la terza location boys Dunque raga 130 metri anzi ormai bruchissimi metri si trova esattamente qui sotto se non erro la piastrina Eccola qua il tutto il suo splendore ovviamente non la prenderemo Però eccola qua la location qui a Bobine Brulle ecco qua Precisamente in questa posizione esatta Ora ragazzi andiamo appunto sotto Boschetto Pisutto per appunto la quarta location dove voi potete andare Per questa missione La quarta location ragazzi dove voi potete andare per appunto raccogliere la piastrina Eccola qua bislachissima E' proprio questa qui Anche lui come potete vedere credo debba raccogliere la piastrina Eccola qua ragazzi in tutto il suo splendore la piastrina di OG Io ovviamente cerco di andarmi subito così cerco di non morire Dunque ragazzi qui c'è appunto la piastrina Si trova esattamente in questo che c'è qua sotto Boschetto Bisutto la vedete qui Dunque io direi che ci possiamo direttamente spostare alla quinta che si trova alla destra di Campococcole Esco ragazzi ci vediamo tra 900 metri Ed eccoci qui ragazzi nella quinta location dove noi possiamo andare per pislacare appunto la piastrina Eccola qua in tutto il suo splendore come potete vedere Dunque zacchete tanto ce l'ho fatta Non dovevo prendere dunque godo ancora di più Ragazzi si trova esattamente in questa location esatta Campococcole alla destra Dunque zacchete Ora noi semplicemente dobbiamo andare di qua Dunque ci dirigiamo verso sta postazione E ci vediamo appunto tra un secondo Ed eccoci qui Boys and Grylls Ecco qua la bislacchissima Sesta se non erro piastrina C o G Eccola qua in tutto il suo splendore Dunque ora ci dirigiamo Da praticamente La settima Ma vicinissima 300 metri Dunque ci vediamo tra pochissimi secondi Perfetto Siamo arrivati a condotti confusi Ed ecco qui appunto la settima piastrina Bislacchissima Da poter prendere Dunque ci dirigiamo ora in questo caso sopra Deposito Truciolanti Esattamente qua sopra E poi andremo a finire con le ultime due location Qui nel bioma verde Dunque andiamo appunto Verso i 400 metri Più in là Eccoci qui dunque sopra Deposito Truciolanti Dovrebbe essere qui vicina La piastrina C o G Eccola qua In tutto il suo splendore E dunque Questa è la terza ultima location Andiamo alle ultime due ragazzi Partiamo appunto da Daily Buggle Che si trova in questo caso A 1150 metri Ci vediamo appunto Tra un secondo per voi Penultimissima location Ragazzi Dove voi potete andare Per appunto Completare questa Dallantissima missione Che probabilmente È la location peggiore Secondo me Visto che Credo sia appunto Dentro in questo Palazzone Enorme Vediamo un pochettino Dove si trova Sta piastrina Da C o G Ah no Ok Si trova fuori Tra l'altro Con questo bellissimo Tombino mezzo Bislacco Dunque ragazzi Qui appunto C'è la piastrina Bislacchissima Esattamente qui E ora ci spostiamo Verso diciamo A Prodo Avventurato 174 metri Dunque Slitiamo di qua E ci vediamo appunto Tra un secondo Perfetto Diciamo che siamo arrivati Eccoci qui Ad A Prodo Avventurato Il problema è che Se c'è gente Siamo un po' fottuti Ma dovremmo riuscire Comunque A finire la missione Esattamente Difatti Come potete vedere qua L'ultimissima Piastrina Da raccogliere Finalmente L'abbiamo Fate tutte Perfetto Tutte queste Sono le location Che voi potete Appunto Usufruire Dove potete andare Insomma Per completare Questa missioncella Ci vediamo appunto Tra pochissimo Con un incarico Un pochino più difficile Dunque raga Un bacio grandissimo Bella boys 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 Grazie a tutti.